Sapere che anche la squadra di rugby è in Serie A dà davvero un grande orgoglio a noi, a me in particolare come assessore allo sport, che sarò vicina assolutamente anche a questa squadra che ha bisogno e merita davvero di un grande rilancio per tutta la città, anche questa come tutte le altre squadre che abbiamo la fortuna di avere in Serie A. Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la squadra dell'amatori Napoli Rugby che da tre anni disputa il campionato di Serie A. Le aspettative sono alte anche perché ci sentiamo questo peso addosso di rappresentare il sud. I ragazzi sono tutti quanti giovani, abbiamo un nuovo direttore tecnico, un nuovo allenatore per cui siamo fiduciosi. Gli atleti verde-blu allenati dal tecnico Nicolas De Gregori debuttano domenica 16 ottobre alle 15.30 nella partita a Casalinga contro i Cavalieri Union Prato Sesto. L'incontro si svolge al villaggio del rugby negli spazi dell'ex basenato di Bagnoli. C'è tanto da lavorare e per quello no, sono qua. È nulla, me lo prendo come una responsabilità come deve essere perché è il mio lavoro, però penso che abbiamo tanto da lavorare e piano piano riusciremo a avere risultati diciamo. A Napoli c'è una grande tradizione reggbistica quindi ci fa veramente piacere che questa squadra si rafforzi sempre di più, che possa avere un ruolo forte in Serie A. Noi come Comune cercheremo di essere vicini agli amatori rugby per fare in modo che anche in questo sport Napoli possa eccellere. Noi come Comune cercheremo di essere vicini agli amatori pubblici,